Ciao ragazzi, bene bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo una cosa abbastanza veloce e soprattutto interessante per chi ama ragionare un po' più nel breve periodo. Ci andiamo a guardare questo grafico di Bitcoin, che è il grafico del future di Bitcoin sul CME, per ragionare su due punti di vista diversi. Primo, questo livello di congestione di Bitcoin, essenzialmente un livello molto importante per due motivi che vedremo in questo video, ma soprattutto anche estremamente lungo perché dura da tanti mesi e Bitcoin non è solito fare questi movimenti così lunghi di attesa. Questo è anche significativo del cambiamento radicale che è avvenuto, sta avvenendo all'interno del mercato delle criptovalute, soprattutto per il re del cripto. Però c'è anche un altro dato che questo grafico, il future CME di Bitcoin, ci mostra, perché è sempre un future che ha ovviamente escluso anche i sabati e la domenica, quindi leggermente meno rumoroso da questo punto di vista, anche se ovviamente esistono i gap, ma abbiamo visto che dopo l'approvazione soprattutto degli ETF nell'anno 2024, comunque i weekend di Bitcoin, dell'andamento spot di Bitcoin, sono diventati leggermente più inutili, tra virgolette, e poco significativi. E quindi eliminato quei giorni, in effetti, questo grafico può darci anche un'informazione più precisa su alcune questioni di breve periodo. Quindi ci immergiamo immediatamente in questo video più operativo rispetto agli altri, più tecnico operativo, molto più leggero secondo me. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questi video e chiaramente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma ragazzi lasciatemi i mi piace perché fa tanto caldo e soprattutto nonostante i giorni di pausa e dormiveglia siamo ancora qui a dare info sui mercati cripto, quindi mi raccomando, su questo video tanti tanti mi piace. Allora ragazzi, un grafico del CME, un grafico molto particolare, pulito, tolto appunto dai sabati e le domeniche, ovviamente con la presenza di gap down o gap up perché ovviamente si vanno a creare in assenza del weekend. Quindi quando il weekend non c'è, il giorno del lunedì, dopo la chiusura del venerdì, lunedì, Bitcoin può aprire più alto, più basso rispetto alla chiusura del venerdì, si creano i gap. Gap che sono quasi sempre recuperati ma non del tutto, quindi non è una regola generale che avviene. Allora, dal massimo del 13 di marzo siamo in questa mega barra di congestione. Esiste una similarità, cioè questa barra è stata già riportata anche in periodi precedenti così lunghe. Allora, l'unica cosa che risulta simile a questa barra di congestione è questo periodo qui, nello stesso ciclo che va da marzo del 2023 a settembre-ottobre del 2023 stesso. Questa struttura di congestione perché negli anni in effetti precedenti, soprattutto nelle fasi di Burran, non abbiamo avuto fasi di congestione così importanti. A meno che non andiamo a ridisegnare questo periodo, cioè che è quello che intercorre tra il minimo che era avvenuto il dicembre del 2019 e poi quello di marzo che è un'anomalia tecnica dovuta alla questione pandemica e che in effetti noi potremmo, da un punto di vista di pattern, di ripetitività, di comportamenti, eliminare di sana pianta perché, ok, il dato c'è ma noi potremmo tranquillamente indicarlo come se fosse una roba del genere. In pratica come se andassimo a reperire un dato passato con una struttura di barre creata molto similarmente a questa e l'andiamo, oddio ho fatto un danno, ok, ragazzi ok, allora e l'andiamo in pratica a inserire di sana pianta all'interno di questa struttura, in pratica è come se fosse una cosa del genere. Allora che succede? Che se noi ragioniamo in questo modo, allora la durata tecnica di questa fase è stata abbastanza rilevante perché è stata circa 200 giorni, se escludiamo la questione della volatilità dovuta appunto alla questione pandemica. Al di fuori di questa struttura vi metto anche il grafico, quello di lungo lungo, che non è appunto sul CME perché il CME finisce poi perché qui era stato approvato nel 2017 dicembre e da lì in poi si è strutturato il grafico, quindi prima non c'era. Negli anni passati, quindi se riguardiamo 2015, le fasi insomma in fase di up di Bitcoin non sono state tanto lunghe in termini di congestione. Per esempio abbiamo questa zona che è durata un pochino, circa 138 giorni, poi alla rottura dei massimi è durata un po' di più, però erano i periodi iniziali di questa fase di bullo. Quindi se noi andiamo vicino ai massimi, poi ai massimi di solito toccava e rompeva molto velocemente. La stessa cosa che è avvenuto qui quando siamo arrivati ai massimi nel 2017, breakout e via. Invece, invece, da quest'anno e poi qui si è andato a creare una sorta di anomalia o direi un po' di più io, di maturità del mercato. Però, in sostanza, quello che abbiamo visto è stato un touch di alcuni livelli, ritorniamo sul grafico del CME, che sono i massimi storici di Bitcoin che poi non sono stati imbreccati. Cioè, in pratica, questa struttura qui è divenuta una struttura di resistenza. Allora, ragazzi, su Bitcoin, su Bitcoin, da aprile del 2021 sono passati tre anni, precisi ragazzi, tre anni e due mesi. Quindi, circa 38 mesi di tempo, non è cambiato nulla. Cioè, nel senso che noi, tutto quello che avevamo fatto nel 2021, ce lo siamo ritrovati attualmente. Ciò significa che chiunque ha investito in Bitcoin, facendo l'holder e non il trader, fino ad oggi non ha cambiato il suo massimo profitto dal 2021 ad oggi, a meno che, ovviamente, non ha investito di più. Quindi, ipotizzando capitale stabile, identico, non modificato per gli holder, sono 38 mesi, che non cambia assolutamente niente. Tre anni e due mesi, che non cambia niente. Questo è anche significativo, perché una roba del genere non è che poi, insomma, sia tanto semplice da andare a digerire. Però vi dice anche un'altra questione. Cioè, quanto è importante questo tipo di livello? È un livello, ragazzi, che dura da 38 mesi. Cioè, una resistenza storica molto più importante dei precedenti massimi storici. Che, rivado alla fase, a quello lungo, i precedenti massimi storici, vedete, non avevano mai tenuto banco su Bitcoin, perché hanno dato spazio, sì, a dei ritracciamenti, ma che venivano bucati quasi immediatamente. Solo in alcune situazioni si sono verificate, poi, dei ritracciamenti un po' più consistenti, tipo qui, un primo touch ha avuto questa roba qui, prima di breccare. Ma, comunque, è sempre un ritracciamento più volatile, con lo stesso, diciamo, atteggiamento che era avvenuto qui, solo molto più volatile, perché i prezzi erano più piccoli. Ancora peggio, se poi andiamo indietro nel tempo, nel 2013, qui, per esempio, il massimo è stato breccato diretto, senza neanche batter ciglio. Questo è anche significativo del fatto che ci troviamo di fronte ad una resistenza molto più importante in questo contesto su Bitcoin. Una resistenza che, probabilmente, Bitcoin non ha mai visto in termini di atteggiamento, di ripetitività, di principio riflessivo dei mercati. Il superamento eventuale di un livello del genere, soprattutto se avvenisse ad inizio di una nuova fase ciclica, cosa che, appunto, stiamo auspicando da mesi e mesi e mesi, quando vi ho detto non deve salire, non deve salire, non deve salire, prima di fine giugno. Perché, ragazzi, se avviene un breakout di un livello del genere con un filtro ciclico che dice, attenzione, siamo in un nuovo ciclo, quindi non è una fine di un ciclo, ma è l'inizio di un nuovo ciclo, quel breakout ha un impatto enorme, molto significativo. Quindi non dobbiamo sottovalutare il segnale tecnico che arriva da questo tipo di massimo, che è una sottospecie di triplo massimo, che in realtà è una figura che io non tanto ammiro, perché il triplo massimo non è una figura molto forte. Di solito, quando il mercato tocca nuovamente lo stesso livello di massimo, lo fa per poi breccarlo. Il quadriplo massimo, tra l'altro, non neanche esiste, ma già il triplo massimo di suo è una figura poco consistente in termini di resistenza. Quindi già l'idea che Bitcoin si sia, mosso qui mi dà l'impressione di poter agire, di poter avere la forza poi di breccarlo nelle prossime settimane. E quindi andiamo a vedere dove, da un punto di vista di breve periodo, siamo analizzando appunto il grafico, ritornando al grafico del future del CME di Bitcoin. Un future di Bitcoin che adesso vi faccio vedere è significativo perché è un pochettino più pulito su una serie di cicli. Allora intanto, l'ultimo annuale di Bitcoin corto è iniziato l'11 settembre del 2023 e si sta sviluppando, almeno secondo questa forma che si evince, anche se andiamo a mettere per esempio il grafico lineare che è ancora più pulito, guardatelo come è lineare, è una specie di movimento a forma ternaria, così costruito, che sta andando in chiusura. Cioè la sua naturale predisposizione sarebbe questa che vi sto facendo vedere, con una sorta di minimo, doppio minimo, da disegnare nei prossimi giorni, che teoricamente chiamerebbe un non bastano questi 65.000, poi ovviamente tutto può accadere ancora, però questa che vi ho fatto vedere è la forma più comune, diciamo così, quella più comune, il famoso scenario 1 di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane. Questa struttura in pratica dovrebbe andare a chiudere questo movimento e lanciare il terzo movimento annuale corto, che appunto avrebbe poi la forza di tentare il breakout vero di questa fase. Ci sono diversi pattern in questo momento che si stanno andando a delineare. Il primo è un evidente testa-spalle che si è andato a delineare su Bitcoin e che se va ad essere in pratica breccato configurerebbe appunto uno spunto rialzista. È vero che i testa-spalle rovesciati raramente si trovano alla fine di questi meccanismi, di solito avvengono al contrario, però questo può avvenire in forma di fase di riaccumulazione e quindi come se qui fosse stata una fase di stand-by. Se così fosse, teoricamente non potremmo andare a fare un doppio minimo perché altrimenti la figura di testa-spalle verrebbe meno. E verrebbe meno anche invece con il mantenimento di questa zona così, verrebbe meno anche la somiglianza con questa invece struttura che vedete in questa zona che in pratica è rappresentata da questo tipo di movimento. Adesso faccio una cosa, vi copio nuovamente la struttura del pattern e lo rimettiamo, appunto, vediamo qui. Allora, questo ragazzi sto... Rimettiamo l'altro... Eccolo qui. Perfetto. E quindi vi faccio vedere come in pratica questa struttura, l'avevo già mostrata, sta andando a deliberatamente replicarsi, quindi se dovesse avvenire una cosa del genere il testa-spalle viene meno. Nel momento in cui andiamo ad analizzare la situazione di breve di Bitcoin, questo grafico ci viene incontro in quanto è un grafico che evince alcune strutture di ripetitività molto più semplici rispetto al grafico spot. Intanto, mensili da circa 28-29 giorni strutturati in questo punto e poi un mensile, un doppio mensile da 42 giorni che è molto corto, diciamo, ok, però qui non ci sono i sabati e le domeniche a forma ternaria che ha chiuso un trimestrale. Qui è iniziato, in pratica, il nuovo ciclo trimestrale di Bitcoin che però, seguendo questo tipo di logica a questo punto configurerebbe e credo che ormai potremmo darlo quasi per certa questa cosa vista la tempistica, un ciclo mensile di Bitcoin chiusosi su questo livello di minimo il 29 di maggio e da qui è iniziato il secondo mensile che, attenzione, è vincolato al ribasso. Questo, teoricamente, è quello che ci sta dicendo il grafico del CME ma la stessa identica cosa possiamo desumerla dal grafico spot ne parliamo la prossima settimana perché sono passati troppi giorni e questa fase di continua debolezza di Bitcoin non è accettabile con una ripresa immediata quindi, evidentemente, sta avvincolato un ciclo superiore come appunto il ciclo mensile. Se così fosse, in pratica, dobbiamo, prima di avere una ripresa, chiudere un altro ciclo mensile che, secondo le logiche del CME potrebbe essere appunto intorno ai 28-27-28 giorni e anche perché questo sembra palesemente essere strutturato come un ciclo binario in quanto a 13 giorni ha fatto una specie di metà ciclica facendo poi il pump che è stato riassorbito, lo so, nell'arco di pochissimo tempo ma non fa niente perché a livello ciclico comunque è passato a fare un più 6-7% questa zona è sufficiente per fare una metà visto che il ciclo era già vincolato ribassista e poi è continuato a scendere. In pratica, intorno ai 27-28 giorni scaderebbe il prossimo mercoledì 26 di giugno. Mercoledì prossimo teoricamente questo grafico che, vi ripeto, resterebbe chiuso comunque sabato e domenica e quindi ha ancora ad oggi altri due giorni di quotazione perché oggi siamo a mercoledì quindi quoterebbe giovedì, venerdì e poi farebbe lunedì, martedì e mercoledì. In pratica 5 giorni 5 candele che potremmo vedere su questo grafico a chiudere questa struttura il prossimo 26 circa insomma la settimana prossima in generale. Se dovesse fare una cosa del genere sarebbe interessante perché il prossimo ciclo mensile potrebbe intanto dare un po' di spazio ma poi a quel punto lascerebbe un grande interrogativo cioè se questo ciclo mensile deve chiudere tutto il movimento che vi ho detto prima quello più lunghetto sarà nuovamente ribassista e in questo caso potrebbe andare a chiudersi con tempi più brevi intorno alla prima decade di luglio in pratica quello che vi sto dicendo è che nel brevissimo se questa configurazione tecnica ciclica è corretta e guardando il CME sembrerebbe così potremmo avere la ripetizione per ecisa del pattern che è avvenuto precedentemente alla chiusura dell'ultimo annuale cioè quello dell'aprile 2023 fino a settembre 2023 in pratica è come se noi stessimo per vedere una roba del genere e quindi prima una chiusura qui poi il rimbalzino del gatto morto il doppio minimo a chiudere la soltura ciclica prima di una fase di ripresa che in questo contesto viene data da metà estate in poi su Bitcoin quindi breve periodo ancora debole fino alla prossima settimana ma poi eventuale fase di ripresa ci credo sì o no allora sì di solito a livello tecnico vi racconto un po' di esperienza a volte questi cicli poi non fanno neanche la fase di ripresa cioè quello che combinano è andare a chiudere direttamente il ciclo superiore e poi fare congestione per far passare i giorni in pratica potrebbe tranquillamente fare una roba del genere direttamente e poi fare una mini congestione così per chiudere il ciclo definitivamente quindi non fare invece la struttura della chiudo poi riparto e poi richiudo non fare una roba del genere ma andare diretto a fare un minimo e poi cincischiare per riaccumulare una roba del genere allora se così fosse i prossimi giorni dovrebbero essere di debolezza su Bitcoin ma neanche tanto allora contestualmente scendere sotto i 60.000 è possibile tutto è possibile ovviamente sui mercati però al momento Bitcoin non sembra avere questa intenzione poi è chiaro basta veramente poco cioè un circa 5% lo fa in una giornata scende sotto i 60 certo che il trend di breve in questo momento è negativo e quindi bisogna ascoltare quel trend c'è possibilità anche per Bitcoin di non riprendersi più e quindi replicare una nuova figurazione un nuovo ciclo una cosa che non aveva mai fatto se volete sapere di più su questa ipotesi scrivetemelo nei commenti ragazzi così vado a realizzare un video completamente diverso dove parliamo della possibilità che Bitcoin potrebbe anche non rifare una nuova fase di bull se questa cosa è possibile quanto ci credo io o meno e soprattutto da dove lo andiamo a vedere questa cosa qui scrivetemelo nei commenti se vi interessa e faremo questo video che ovviamente avrà il bolino rosso con attenzioni previsioni meteo e roba del genere perché chiaramente si parlerà solo di opinioni e non di fatti ciao a tutti e buona continuazione della settimana ciao